Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo che fa in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5, siamo qua con Francesco e chiaramente porteremo avanti le nostre idee, le nostre posizioni, il nostro modo di vedere il mondo e la vita e come nella tradizione della prima trasmissione, ormai è una tradizione che si è consolidata da parecchio tempo, parleremo di Paganesimo in relazione ai fatti, fatti di cronaca o elementi di giornale che vengono pubblicati in questi giorni, perché questo? Perché il Paganesimo naturalmente si sviluppa sempre per una questione di relazione col mondo, relazione nei confronti del mondo e ai fatti, agli avvenimenti che succedono nel mondo, il Paganesimo oppone la propria critica, oppone la propria visione della vita Noi nella costruzione dell'attività pagana praticamente la stiamo facendo all'interno di un contesto monoteista, cioè di un contesto cristiano che si è consolidato per 1500-1600 anni, per cui l'oggettività nella quale noi agiamo per costruire il futuro, cioè per costruire la regione pagana non è il contesto che poteva esserci 2000 anni fa a Roma o in Grecia o in Egitto o a Babilonia ma è il contesto oggettivo di una società, di un sistema sociale che è divenuto all'interno di una situazione complessiva di 1600-1800 anni di monoteismo pertanto noi non possiamo fingere di non guardare il mondo in cui noi viviamo perché è partendo dal mondo in cui noi viviamo che andiamo a costruire la nostra visione degli dei chiaramente la Terra, il Sole e la Luna non è che sono diversi adesso da 2000 anni fa ma sono diversi gli occhi con cui noi li guardiamo è questo che è importante perché se gli dei si trasformano per il loro cammino e nel loro modo gli uomini si trasformano in maniera un po' più veloce degli dei i virus e i batteri si trasformano ancora più velocemente per cui abbiamo delle trasformazioni e abbiamo chiaramente una percezione del mondo che è data non solo da ciò che noi siamo come esseri umani divenuti come specie per milioni di anni ma anche ciò che noi siamo nel contesto educazionale, nel contesto culturale in cui nasciamo e cresciamo ed è da questo contesto culturale che noi andiamo ad affrontare la vita proprio partendo da questo vi ricordo che sabato 28 gennaio alle ore 20.30 in sala radio in sala dibattiti radio gamma 5, teremo il dibattito relativo al giudizio di necessità in pratica uno dei cinque elementi con cui noi guardiamo e affrontiamo la vita sociale e la vita collettiva perché il paganesimo, siccome parte dal presupposto che l'uomo è in trasformazione continua è in divenire continuo e la vita dell'uomo è un modo per affrontare l'esistenza chiaramente le strategie di esistenza è importante e metterle a punto non tanto la strategia in se stessa ma aver chiari quelli che sono gli elementi sui quali andare a costruire la propria strategia personale allora l'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 20.30 in sala dibattiti di radio gamma 5 dove tratteremo il dibattito sul giudizio di necessità l'appuntamento è per tutti e dopo naturalmente andremo mangiarsi a pizza come al solito bene Francesco sì, io invece voglio ricordare una cosa che ha a che fare con la radio ricordo che appunto venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 qui in sala radio c'è l'assemblea degli speaker la radio, l'amministrazione, l'amministrazione ha raccomandato a tutti gli speaker di essere presenti perché sono da prendere delle decisioni importanti e visto che appunto anche con febbraio è il trentennale di radio gamma 5 c'è una cosa che volevo portare però come sempre parlando di fretta non ho fatto tempo a raccogliere in questa settimana qualcuno mi ha fatto vedere il programma di un corso di uno stage come volete chiamarlo è uno stage di due giorni, di poche ore al giorno con tematiche varie questo stage costava 150 euro di due giorni con poche ore e quando mi ha fatto vedere il programma mi sono messo a ridere perché erano tematiche che chi si ascolta il radio gamma 5 ascolta da 30 anni e da 30 anni ce le ha gratis purtroppo non sono andato a cercarlo ma pensavo di averlo in macchina ma me lo sono dimenticato a casa di conseguenza appunto io lo volevo proprio ricordare proprio in occasione del trentesimo di questa radio di dire vedete se chi con tematiche simili, analoghe con altre importazioni a fronte a queste cose e fa pagare 150 euro radio gamma 5 sono trentaniche queste cose le dice 24 ore al giorno 365 giorni all'anno e le dice gratis di conseguenza io voglio ripunto ricordare l'importanza di radio gamma 5 e perciò ricordo agli speaker che possono ascoltare di venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 qui c'è la riunione degli speaker che è molto importante proprio perché è richiesta la partecipazione di tutti per prendere delle decisioni significative Claudio ha ricordato l'appuntamento del 28 allora adesso passiamo ad un altro appuntamento importante voi sapete che abbiamo parlato dei vari pangamut vicamut che si stanno tenendo nel Veneto abbiamo parlato appunto del pangamut del vicamut tenuto appunto a Marghera e di quello tenuto a Montecrotto proprio in questi giorni anzi proprio questa mattina sono stati difetti le ultime particolari le ultime caratteristiche si è deciso di unificarli di raccruparli di creare un unico pangamut per il Veneto si è deciso anche di mantenere un luogo e cambiare un attimino la data allora contrariamente a quello che ho detto in precedenza il prossimo pangamut di camamut si tratterà a Montecrotto Terme giovedì 9 febbraio alle ore 21 presso il pub Inbolc che è in via Orelliana 11 finalmente ce la facciamo muovere la trasmissione e andare a programmut di conseguenza chi aveva ricevuto comunicazione dei precedenti per un'altra data cancellì tutto proprio perché proprio tra ieri questa mattina è stata decisa una nuova organizzazione cioè una nuova articolazione della cosa per me è importante il fatto che questi due vikan e pagamut abbiano deciso di unirsi di raggrupparsi proprio perché è importante che tutti i pagani si conoscono non è stata di creare un movimento un partito ma creare un movimento di incontro di confronto di conoscenza di scambio di idee fra le varie persone che vi hanno partecipato complessivamente in questi due vikan e pagamut che sono state una a Marghera appunto una a Montecrotto hanno partecipato circa 40 persone e mettere assieme far mescolare far conoscere far scambiare le notizie le informazioni aprire dibattiti molto ampi è importante la sede appunto è ancora il pub Involk io ho fatto una proposta alternativa per una sede che sia più consona cioè che permetta maggiormente lo scambio di opinioni vedremo casomai il prossimo incontro appunto del 9 di febbraio giovedì se si decidirà di mantenere questa sede o di cercare una sede più a conoscere un incontro così importante e così numeroso perciò io do l'appuntamento a tutti anche gli ascoltatori a chi vuole a chi è interessato giovedì 9 febbraio ore 21 Montegrotto Terme pub Involk in via Aureliana 11 è abbastanza vicino alla stazione è facile ad arrivarci perciò non è un grande problema ci sarà come sempre una sala con un tavolo a noi riservato vi troverete scritto appunto Venetian Pagamut e lì ci troveremo lì discuteremo quello precedente è quello di Marghera purtroppo per impegno non ho fatto tempo a parteciparvi quello di Montegrotto ho partecipato ed è appunto stato il primo che ha visto la partecipazione di persone di provenienza da cultura molto diversa ma è servito per cercare di avviare il dibattito su che cosa è il paganesimo perciò io ripeto l'appuntamento giovedì 9 febbraio alle ore 21 pub Involk via Aureliana 11 Montegrotto Terme per chi ha problemi c'è sempre il telefonino o internet per avere queste notizie purtroppo diavolo la notizia soltanto adesso perché proprio il calendario sta dopo definito questa mattina va bene allora cosa abbiamo un po' di rassegna stampa in questo periodo beh c'è parecchio in realtà c'è la buffonata di Ratzinger che è una cosa mettersi le mani i capelli quella enciclica comunque qualcosa metterò in internet quando posso mettere in internet è una cosa veramente di uno squallore incredibile però Claudio ecco dico una cosa io non l'ho ancora visto è uscito il nuovo volume di Karl Eich D'Empsteder il settimo è uscito proprio in questi giorni perciò la storia criminale del cristianesimo c'è il nuovo volume gli ascoltatori che stanno facendo la collezione della serie possono appunto darla a recuperare il settimo volume di storia criminale del cristianesimo è stato edito per cui prenotato nelle librerie perché è una cosa che vale nel senso che io mi sono appena letto di Karl Eich a parte i primi volumi che un paio li ho letti gli altri li ho spulciati il gallo canto ancora ce l'ho ancora qui ed è un bel mattone 500 pagine però me ne sono lette tutte e vale la pena anche perché vi farò qualche accenno anche oggi insomma di questo libro anche perché proprio va in coincidenza con notizie di stampa abbastanza importanti ecco per cui prendetevi un posto storia criminale cristianesimo serve perché sono dati che nessuno può contestare si può contestare l'uso che se ne fa dei dati ma è incontestabile il dato di se stesso per cui anche se a me Dessner lo sommato non piace perché è sempre un teologo anche se è anticlericale sempre un teologo Reis no beh una cosa significativa pensate per far uscire sette volumi implica che l'editore sicuramente ha un riscontro dal punto di vista del mercato sette volumi però non c'è stata pochissime recensioni il primo volume ha avuto qualche recensione poi le recensioni stranamente sono spagate completamente e tutti quanti cristiani non hanno mai trovato possibilità elementi notizie da poter confruttare l'opera e sapete si arriva al 1400 sono sette volumi di storia criminale del cristianesimo il 1400 significa già le guerre contro le eresie i roghi e chi più ne ha chi ne metta siamo e pensate appunto che qua si parla di storia criminale del cristianesimo non della chiesa cattolica o di qualche sacerdote o dell'inquisizione ma del cristianesimo preso in tutte le sue varianti vi faccio osservare che Deschner era un teologo per cui molti lavori che lui usa per analisi della chiesa cattolica sono lavori di teologi io non ho mai visto leggendo il Gallo Canto Ancora vabbè che il Gallo Canto Ancora è un libro degli anni 60 per cui pecca di tutti quelli che sono le contraddizioni che c'erano negli anni 60 per cui ha chiaramente i suoi limiti però io non ho mai letto tante citazioni di teologi anticlericali come su Gallo Canto Ancora giuro effettivamente esiste chiaramente un lavoro non indifferente si appunto poi la documentazione storica di quello che è successo di quello che rappresenta della criminalità del cristianesimo un libro che con sette volumi di 400 500 pagine arriva solo al 1400 vi dice qual è la trama l'ordito il tessuto che ha portato il cristianesimo ad affermarsi cioè l'azione l'attività l'impegno criminale basato poi sul modello che noi diciamo sempre della figura criminale e mostruosa di Gesù Cristo anche se come teologo ha avuto un buon lavaggio del cervello indubbiamente nel senso che lui ancora ha la fissa dell'aspetto del Gesù Buono cioè quello che mi ha impressionato molto è che quelle frasi che noi abbiamo trovato loro neanche le vedono ma io mi ricordo sempre che su un libro che si chiamava La misera del cristianesimo ci fu sempre un'analisi della vita di teologi e un teologo disse io sono teologo in un certo numero di anni sto impegnando tutta la mia vita per liberarmene cioè di conseguenza non è un problema di quantità di anni ma proprio di concetti elementari mostruosi criminali che vengono insiti e quando uno li ha assorbiti li ha accettati questo teologo ha detto fa io sto impegnando tutta la mia esistenza per liberarmi di pochi anni che ho fatto il teologo pensate quale malattia rappresenta il monoteismo e quale veramente sconvolgimento alterazione della psiche è un'operazione di plagio di lavaggio del cervello di elaborazione mentale insomma io non ho fatto tempo ho letto solo le anticipazioni anche ad esempio tu parlavi del signor Ratzinger le anticipazioni che hanno fatto alla stampa ma proprio deve essere una delle encicliche che proprio dimostra l'assurdità del monoteismo e anche proprio il pericolo che rappresenta per la psiche perché andare ad affrontare la sessualità in quella maniera implica creare i danni che la psicoanalisi ha fatto emergere io ho letto una sparata su un articolo in cui praticamente lui prendeva Giuliano Giuliano Imperatore quando restaura fra virgolette il paganesimo in realtà vi ricordo che Giuliano non è che restaura il paganesimo Giuliano è neoplatonico restaura praticamente l'organizzazione dei neoplatonici ma la cosa che è aberrante che dice Ratzinger è che Giuliano fu impressionato dall'organizzazione di carità dei cristiani che è una puttanata immane cioè i cristiani non hanno mai avuto nessuna organizzazione di carità semplicemente loro costituivano la setta e sovvenzionavano la setta in se stessa tant'è che quando nelle varie città c'erano i pagani cioè i sacerdoti cioè i musiche delle varie religioni che dovevano distribuire quelli che erano gli aiuti alle persone ma mentre i pagani neoplatonici e chi era detto distribuiva tutti i bisognosi cioè pane olio e vino andava a tutti i cristiani quando assunsero con Costantino il diritto anche loro di fare questo loro distribuirono solo ai cristiani lasciando la fame agli altri cioè usavano la carità proprio come strumento di coercizione come strumento di distruzione delle altre religioni pertanto non è che Giuliano fosse stato impressionato da quello che facevano i cristiani i cristiani non facevano assolutamente niente cioè facevano opera di distruzione sistematica delle società civili mentre invece ciò che era la sovvenzione la ridistribuzione del valore ai cosiddetti poveri fra virgolette era un diritto acquisito cioè il cittadino aveva diritto al pane al vino all'olio cioè quelle cose essenziali che gli consentevano di non essere in miseria cioè la società si preoccupava della struttura sociale furono i cristiani che disarticolarono la società civile costruendo la miseria e l'indigenza questo deve essere chiaro per cui le puttannate che spara Ratzinger sono di una volgarità di una vigliaccheria che sono veramente degli astoricità tipo Onorio che scrive la storia dei pagani insomma no sai sul discorso appunto di questa follia di questa encyclica sull'amore parto dalle purtroppo non avendo la letta ancora proprio perché è uscita ieri non abbiamo il tempo di teologi abbiamo altri tempi abbiamo altre vite però abbiamo alcune anticipazioni che sono interessanti a me è partita un'anticipazione riportata tra virgolette dice l'amore vissuto senza fede diventa merce ma se noi parliamo di mercificazione o di scambio cosa c'è di peggiore considerazione o situazione di quello che rinuncia ai suoi desideri alle sue passioni alla sua vita per la vita nell'aldilà non è uno scambio mercifico basato proprio sullo scambio puramente materiale ma c'è una frase che viene riportata dal Corriere che dice la prima parte affammerà la specifica cristiana della rivelazione di Dio come amore che si fa carne per salvare l'umanità tratterà della distinzione tra Eros concetto pagano dell'amore e Agape concetto cristiano allora Paolo di Tarso condannò l'Agape perché diceva non è giusto che i ricchi portino da mangiare e i poveri mangiano senza portare niente e cominciò a far saltare l'Agape per cui vi dovete vi dovete accontentare della comunione della particola insomma tanto per essere chiari sì no ma quello che appunto è sempre strano il fatto che tutte quante le cose in sé non hanno valore cioè soltanto se accettano di essere uniformati a tirare dentro la fede le cose sono prive di anima di profondità di significato di importanza sono insignificanti sono vuote sono prive di qualsiasi valore consistenza e invece se accettano questo presunto amore cristiano questa volontà cristiana diventano vengono santificate e dice l'amore fondato nella fede e da essere plasmato l'eros senza questo amore l'eros finisce per essere degradato a puro sesso è sempre interessante il fatto di dire che le cose non sono diverse ma vengono degradate cioè nel senso di considerarle inferiori considerarle sporche considerarle indegni considerarle peccaminose e logicamente di fronte a questa cosa si pone sempre il dubbio proprio psicanalitico di una malattia ma questa cosa è degna o non è degna ma questa cosa è grata o è degradata allora il sesso diventa merce quando ha una funzione diversa dal sesso stesso cioè il sesso diventa merce quando viene sottomesso alla fede o quando viene sottomesso al denaro o quando viene sottomesso ad altre condizioni che non siano il sesso pure semplice questo tanto per spiegare un po' di logica minima ratzinger c'è una notizia che a me è piaciuta se Claudio se mi dici le posso leggere allora casomai chiederemo alle ideologi come affrontare questa cosa Mosca inserzione sul giornale della donna alla ricerca di amanti annuncio shock anti cancro cerco sesso come terapia sesso tre volte alla settimana per combattere invecchiamento e malattie ginecologiche e questa è la terapia prescritta da un medico di Mosca a una trentenne russa Elisabetta però ha un problema divorziata e single poiché i maschi non si vendono in farmacia e gli sconosciuti raccoltati frittoriosamente nell'aircrux non offrono garanzie sanitarie è stata costretta a rivolgersi a un giornale annuncio shock cercasi maschio sano disponibili a coiti frequenti e regolari per salvare una donna da un tumore all'utero sei mesi di ricerche vane tra amici e colleghi di lavoro lunghe improduttive notate in discoteca terminate con ragazzotti sbronzi e mezzo addormentati tra le braccia il fallimento della cura con alcuni amanti mai puntuali il manager che dice che all'ultimo momento il capo l'ufficio l'ha chiamato il capo ufficio che nemmeno si spoglia e si stanca subito il fidanzato di un'amica presto vittima di sensi di colpa il vicino di casa che rifiuta il preservativo la storia di Elisabetta è finita così gli risurdo la Moskoy Cosmoslet e ha aperto un dibattito più ampio del naturale desiderio di sesso due inquisiti è compatibile con il sesso la frenesia che crollato il consumismo il comunismo ha travolto i russi che pensano solo a soldi e carriera come si deve comportare una donna che si sente prescrivere tre rapporti la stimana e non ha un compagno disposto a condividere la cura in luglio il medico mi ha toccato i seni ha raccontato Elisabetta e ha detto che sentiva due strani noduli secondo lui tra i 30 e i 40 anni è il sesso a contrastare meglio ogni altra cosa l'insorge di mie lomi dell'apparato genitale in una metropoli devastata al traffico dove anche un trasloco può trovare troncare una relazione è emerso che trovare il tempo per fare l'amore a scadenze precise è ormai impossibile sempre più spesso ha confermato la ginecologa Elvira Turilova visito donne prive di una vita sessuale regolare uno studio dell'università di Mosca sostiene che per evitare il ristaglio del sangue nell'utero con causa di mie lomi dopo una certa età tre rapporti settimanali sono necessari il coito monterebbe l'afflusso sanguino e dunque il tasso di ossigeno dei tessuti Elisabetta è stata intervistata in tv ha detto candidati una trentina di telefonati in poche ore nessuno disposto a impegnarsi ogni due giorni per tutto l'anno allora questa è una cosa che ha a che fare con il sesso logicamente il sesso non deve essere ammantato di cose di sentimenti assurdi di follie di masturbazioni cerebrali come questa del signor Razzica qui siamo di fronte a una donna che dice va bene se il sesso rappresenta la salute del mio corpo e non è solo del suo corpo ma anche della sua psiche devo dire che lo faccio non si pone del problema sentimentale delle persone comunque l'enciclica di Razzica è mercificazione del corpo tanto per essere chiaro ma la mercificazione più squalida più infame più abietta che si possa immaginare perché è la negazione delle pulsioni e che poi è quella che storicamente ha costruito tutte le fobie e tutti i problemi sessuali delle persone insomma quando il sesso si sottopone a condizioni diverse dal sesso cioè a funzioni in qualcos'altro è sempre mercificazione punto e non esiste neanche specialmente quando è fede specialmente quando viene sottoposto a emozioni costrittive oltretutto perché finché soldi tutto sommato vabbè ci sono dei desideri che uno non può averli ma lì si può anche dire vabbè pur di averli insomma cioè è già più è già più accettabile per soldi che non costruzione del sesso per fede per fede è proprio la roba più squalida più infame più si ma sai Gattrone lui ha dichiarato la vera libertà sta nel dire si a Dio si la vera libertà sta nel suicidarsi vabbè concetto raccinghiano ok Francesco io ho due notizie su cui volevo centrare un po' la tradizione visto che poi c'è stato qualche parroco o qualche sacerdote che ha contribuito a far capire cosa è l'amore cristiano vai pure il problema è che ho due notizie che sono centrali diciamo così della settimana